amici di extreme hardware benvenuti a questa nuova video recensione quest'oggi parliamo nuovamente di smartphone e in particolare del doji lio dg 280 questo smartphone è prodotto appunto da doji che è un'azienda orientale in particolare cinese e ci è stato inviato perché una tra le proposte più interessanti all'interno della gamma ultra economica infatti è un dispositivo che si trova online intorno agli 80 euro prima di vedere le caratteristiche hardware diamo uno sguardo molto veloce alla confezione abbiamo illustrazione di quello che il telefono sul frontale è indicato anche il taglio di memoria interna ovvero quello da 8 gigabyte sul lato abbiamo il logo di doji con ovviamente il nome del telefono nome di doji anche sull'altra sull'altro lato sul retro abbiamo un elenco di specifiche tecniche visto che ci siamo vado ad elencarvele il display è un 4,5 pollici con tecnologia ips e risoluzione 854 x 480 il chipset in particolare cpu e gpu sono prodotti da mediatek la cpu è una mediatek 65 82 quindi cpu quad core da 1,3 gigahertz e la gpu è una mali 400 il sistema operativo ovviamente è android kitkat 4.4 è un telefono che supporta lo standard dual sim quindi possiamo avere una sim in 3g più una sim in modalità 2g la memoria interna è appunto come vi ho già detto di 8 gigabyte mentre la memoria ram è di 1 giga la memoria è inoltre espandibile tramite micro sd fino ad un massimo di 32 gigabyte per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una fotocamera posteriore da 5 megapixel coadiuvata dal flash è una fotocamera anteriore da 1,3 megapixel andiamo a vedere quello che contiene la scatola ovviamente c'è il telefono che mettiamo un secondo da parte e sotto ci sono tutti i vari accessori in particolare l'alimentatore da parete con annesso cavetto usb micro usb un paio di cuffie in ear scusate non in ear con con i controlli remoti una pellicola aggiuntiva oltre a quella che è già preapplicata sul sul display e infine il piccolissimo manualetto del telefono andiamo a vedere subito il lo smartphone nelle sue peculiarità a livello costruttivo lo smartphone come vi ho detto è un telefono economico costa circa 80 euro dunque non si può pretendere di avere una qualità dei materiali particolarmente elevata nel complesso comunque la qualità costruttiva è piuttosto buona assolutamente in linea con quella offerta dai dei produttori decisamente più famosi e blasonati perlomeno in europa ovviamente il telefono è costruito sostanzialmente in in plastica anche se il frontale è completamente in vetro la parte posteriore è realizzata in realtà in in gomma è completamente flessibile anche se se questa cornice bianca che vedete qua attorno è in realtà di di plastica e non più gomma flessibile questo fa sì che in in alcuni punti il telefono sia particolarmente vulnerabile nel senso che quando si va a rimuovere la cover posteriore che si muove in questo modo è possibile in caso non si faccia particolare attenzione che si vada a piegare in maniera eccessiva questa banda bianca in plastica che tende quindi a rompersi nel caso in cui venga sottoposta a torsione eccessiva comunque come vi ho già detto nel complesso la qualità costruttiva è più che buona il feeling con il dispositivo è assolutamente soddisfacente il display da 4,5 pollici presenta delle cornici ampie ma non enormi quindi anche le dimensioni complessive del dispositivo sono più che più che accettabili non ci troviamo di fronte ad uno smartphone dalle dimensioni esagerate come vi ho detto appunto c'è una fotocamera 5 megapixel qui c'è il flash led per quanto riguarda i pulsanti fisici abbiamo sul lato destro il bilanciare del volume sul lato sinistro il pulsante di accensione nella zona superiore c'è il jack audio mentre in quella inferiore c'è ovviamente il piccolo microfono e c'è anche la porta usb micro usb sul frontale abbiamo i tre tasti soft touch che non sono retroilluminati e logicamente la fotocamera anteriore lo speaker per le telefonate e i vari sensori di luminosità e prossimità andiamo a vedere quello che è il software di questo dispositivo come vi ho detto questo smartphone monta android in versione 4.4 dunque kitkat non è la più recente versione di android ma non è nemmeno la più vecchia la più vetusta moltissimi altri smartphone in commercio montano ancora versioni di android addirittura più vecchie regolo solo un secondo la luminosità in modo che si possa vedere meglio a video dunque come vedete siamo piuttosto distanti da quella che è la versione stock di android per lo meno per quanto riguarda lo sfondo le icone insomma a livello grafico non siamo sicuramente su un sistema che riproduce in maniera fedele quanto presente per esempio sulla gamma nexus il produttore infatti ha introdotto una personalizzazione grafica che però si limita diciamo sostanzialmente al tema del launcher e al menu delle impostazioni che vi facciamo vedere subito come vedete è caratterizzato da uno sfondo chiaro e da un da una serie di icone tutte colorate a differenza della versione stock prodotta appunto da google come vi ho detto le icone sono tutte personalizzate hanno questo tema sostanzialmente circolare ci sono alcune applicazioni preinstallate per elencarle in maniera veloce abbiamo il camera box che è un'applicazione per sfruttare la fotocamera applicando in maniera rapida alcuni effetti abbiamo un'applicazione per le cose da fare insomma una lista di cose che dobbiamo fare nell'arco della giornata l'applicazione per visualizzare i documenti la possibilità di visualizzare i download effettuati con il dispositivo ovviamente le app per le email quindi sia l'app email che l'app di gmail abbiamo un file manager integrato molto semplice ma molto comodo per andare a recuperare per esempio alcuni documenti che abbiamo salvato sul dispositivo ovviamente fotocamera e galleria la galleria poi in realtà è quella stock di android c'è inoltre google maps preinstallato insieme a tutta un'altra serie di applicazioni di google anche l'applicazione dei messaggi è stata modificata soltanto per quanto riguarda l'icona all'interno è tutto assolutamente identico alla versione stock di android l'applicazione della musica come vedete non c'è il play music ma c'è l'applicazione musica che si può trovare scaricando il codice sorgente AOSP di android un'applicazione che a livello di interfaccia grafica è decisamente vecchia e superata sotto questo punto di vista sicuramente Doji avrebbe potuto inserire direttamente il play music abbiamo l'orologio anche qui tutto esattamente identico a quanto presente sulla versione originale di android la rubrica il play store anche in questo caso è stata modificata soltanto l'icona nulla più abbiamo poi un registratore di suoni un'applicazione che a causa della traduzione non perfetta tra il sistema in inglese ed in italiano viene chiamata serratura software in realtà è un'applicazione che promette di impostare delle password per accedere a determinate funzionalità del dispositivo abbiamo poi ancora la tastiera la go keyboard che è preinstallata inoltre abbiamo l'applicazione per attivare il flash in modo da sfruttare il telefono come torcia e infine l'applicazione per quanto riguarda la radio si tratta come vi ho già detto in molteplici occasioni di un dispositivo economico dunque non si possono pretendere prestazioni esagerate nel complesso come però potete già accorgervi diciamo che il telefono non presenta particolari problemi nell'utilizzo quotidiano come vedete infatti nonostante sia un dispositivo economico il gigabyte di ram con il quale equipaggiato riesce a far girare in maniera piuttosto buona il sistema operativo nello scorrere delle schermate del launcher non ci sono lag o incertezze particolari i limiti vengono però evidenziati come è normale che sia nel momento in cui si vanno ad utilizzare applicazioni piuttosto pesanti come in questo caso google chrome apriamo un attimo il nostro sito e vediamo come si comporta il telefono il nostro è un sito non particolarmente ottimizzato per dispositivi mobile dunque piuttosto pesante soprattutto per telefoni come questo che non sono particolarmente potenti come vedete comunque nonostante il caricamento sia piuttosto lento ma questo dipende dal nostro operatore mobile lo scorrimento all'interno del sito è piuttosto buono ci sono alcuni micro lag, alcune incertezze soprattutto nel momento in cui si vuole zoomare oppure si vuole scorrere la pagina, navigare all'interno della pagina però ho notato nel periodo di utilizzo a dir la verità piuttosto intenso di questo dispositivo che la maggior parte delle incertezze e dei lag del telefono sono imputabili non tanto ad una mancanza dal punto di vista hardware in particolare prestazionale per quanto riguarda CPU e RAM ma sono imputabili a una qualità del pannello touchscreen che non è una qualità particolarmente elevata infatti ho notato in più occasioni che soprattutto quando ho sottoposto a carichi di lavoro molto pesanti il telefono tende a rallentare, a impallarsi un pochettino e in diverse occasioni mi è capitato che non venissero più riconosciuti i tocchi delle mie dita sullo schermo questo ovviamente dipende dal fatto che il pannello touchscreen che ho utilizzato all'interno di questo telefono non è un pannello di qualità particolarmente elevata è l'unico vero punto debole che ho riscontrato all'interno di questo telefono per quanto riguarda tutto il resto insomma il comportamento è più che buono soprattutto se si tiene a mente appunto il fatto che stiamo parlando di un telefono da 80 euro soltanto per avvalorare questa mia opinione vi faccio vedere che anche con alcuni giochi anche pesanti insomma il telefono sicuramente non ha prestazioni elevate però si difende piuttosto bene visto il prezzo al quale è proposto in questo caso abbiamo lanciato Real Racing 3 il caricamento come vedete non è particolarmente veloce questo è dovuto ovviamente sia alla pesantezza del gioco ma soprattutto ad una CPU che non è particolarmente performante e a una memoria interna che non è veloce quanto quella di dispositivi ben più blasonati ma anche molto più costosi come vedete infatti il telefono sta impiegando parecchio tempo per caricare il gioco finalmente ce l'abbiamo fatta adesso ok vi facciamo vedere il comportamento del dispositivo durante il gioco abbassiamo solo un pochino il volume un pochino bene come avete visto insomma il telefono è piuttosto lento nel caricare applicazioni pesanti come in questo caso Real Racing 3 però una volta caricata in memoria l'applicazione diciamo che si può giocare senza particolari problemi sebbene ovviamente le prestazioni non siano di livello particolarmente elevato passiamo a dare uno sguardo molto rapido a quello che è il comparto multimediale vi ho già fatto vedere l'applicazione della musica che insomma è parecchio datata andrebbe sostituita con il play music vi volevo far vedere velocemente l'applicazione della fotocamera anche in questo caso andrebbe decisamente sistemata a livello grafico l'interfaccia non è particolarmente intuitiva ci sono alcuni bug in termini grafici nel senso che le icone non rientrano pienamente nello schermo e insomma nel complesso si potrebbe adottare direttamente l'applicazione della fotocamera di Google togliendosi tutti questi problemi di incoerenza a livello grafico la fotocamera in termini di qualità non è ovviamente eccelsa stiamo parlando di un sensore da soli 5 megapixel è giusto o sufficiente per scattare le foto da condividere sui social network nulla più soprattutto in caso di luminosità carente insomma il rumore catturato dalla fotocamera è davvero elevato comunque ripeto ancora una volta visto il costo del dispositivo non si può pretendere più di tanto una cosa che mi ha lasciato abbastanza stupito ovviamente in positivo è comunque il comportamento complessivo del telefono anche quando utilizzato in maniera piuttosto intensiva nel senso che se non si pretendono prestazioni mirabolanti e sicuramente chi acquista un telefono di questo tipo pagandolo appunto 80 euro non si aspetta prestazioni particolarmente elevate ripeto se non si pretendono prestazioni molto alte è un telefono che soddisfa sostanzialmente sotto tutti gli aspetti il display è piuttosto buono non presenta particolari difetti l'unico difetto davvero da correggere sarebbe la qualità del pannello touchscreen tutto il resto è assolutamente adeguato a quello che è il costo del dispositivo anzi direi che anche con un prezzo leggermente superiore sarebbe comunque un telefono più che buono una cosa che mi ha lasciato abbastanza stupito è l'autonomia infatti la batteria integrata non è particolarmente capiente siamo ampiamente al di sotto dei 2000 mAh però una batteria del genere installata su un dispositivo che non ha un hardware particolarmente prestante garantisce comunque una buona autonomia proprio perché l'hardware non è particolarmente esoso in termini energetici siamo riusciti a fare svariate ore di schermo acceso dalle due ore e mezza alle tre ore e mezza all'incirca questo dipende in base ai valori di luminosità impostati logicamente sul display però nel complesso insomma si riesce sempre a raggiungere la sera con una buona percentuale di carica residua altro aspetto che mi ha lasciato piacevolmente sorpreso è il funzionamento della geolocalizzazione il GPS lo troviamo a questa voce del menu impostazione in questo caso è disattivata però noi l'abbiamo utilizzata con un'applicazione che chi va a correre oppure chi va in bicicletta conosce molto bene è un'applicazione che si chiama Strava necessita ovviamente di GPS attivato l'abbiamo testato questo dispositivo per parecchie centinaia di chilometri percorsi appunto in bicicletta e il GPS funziona in maniera perfetta spesso con i dispositivi di Mediatek capita di avere problemi nell'aggancio del segnale GPS da parte del telefono nel nostro caso dopo un primo utilizzo che necessita appunto di qualche secondo in più per via della calibrazione del segnale GPS per il resto la geolocalizzazione ha funzionato in maniera sempre perfetta i dati non sono precisi come quelli offerti da smartphone che hanno anche sensori più evoluti però insomma in generale funziona molto bene il GPS perfetto per chi vuole utilizzare questo smartphone anche in auto come navigatore come vi ho detto nel complesso si tratta di un dispositivo molto economico perché viene venduto intorno agli 80 euro però le prestazioni complessive sono più che buone abbiamo un display di qualità assolutamente adeguata rispetto a quello che è il prezzo richiesto per il telefono gli angoli di visuale come potete vedere anche dal video sono assolutamente sufficienti per l'utilizzo del dispositivo in qualsiasi situazione la luminosità è addirittura fin troppo elevata anche in condizioni di luminosità bassa dal video probabilmente non lo potrete capire bene ma noi abbiamo notato che utilizzando lo smartphone per esempio al buio in alcuni casi sarebbe opportuno poter abbassare ulteriormente la luminosità del display la luminosità massima infine è perfettamente adeguata per utilizzare il telefono anche sotto il pieno sole le prestazioni complessive sono più che buone considerando appunto gli 80 euro medi richieste online per un dispositivo di questo tipo e nel complesso il funzionamento è assolutamente adeguato diciamo che non mi ha fatto particolarmente rimpiangere il mio telefono personale che è un Nexus 4 ovviamente siamo su due piani completamente diversi in termini di prestazioni però la cosa che ho apprezzato davvero molto in questo 2G di G280 è l'assenza di evidenti carenze dal punto di vista prestazionale il comportamento è quindi estremamente soddisfacente il bundle non è ricchissimo ma è comunque molto buono in quanto comprende oltre ai classici alimentatori cavo usb e cuffie comprende anche due pellicole di cui una è già applicata e l'altra è contenuta ovviamente all'interno della scatola recentemente ho avuto la possibilità di provare anche alcuni smartphone della serie Windows Phone in particolare alcuni Lumia che vengono venduti diciamo tra i 70 e i 90 euro sinceramente questo 2G non ha nulla da invidiare ai Nokia Lumia appunto ovviamente a quelli economici dovessi fare una scelta sicuramente questo sarebbe uno tra i dispositivi più indicati da comprare all'interno appunto della fascia ultra economica stiamo parlando di dispositivi che costano meno di 100 euro in questo caso come vi ho già detto 80 per questa recensione è tutto se avete ulteriori dubbi e domande potete farcele tramite commento al di sotto della recensione oppure direttamente sul nostro forum grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti